Siamo un immobile pieno di cose inutili, non funzionali e che creano solo confusione. Ognuno in casa propria fa quello che preferisce fare, ma quasi mai questo coincide con scelte mirate a renderlo più funzionale o elegante e questo per varie esigenze. Altro caso l'immobile è stato da poco ristrutturato, ma vi sono delle evidenti anomalie. Queste vanno riviste per adeguare e aprire l'offerta a un pubblico più vasto, anche purtroppo se si è già speso molto. O altro caso ancora, gli spazi non sono adeguati alle esigenze di una famiglia tipo. Le possibilità sono solo due. L'immobile non può essere venduto a una famiglia tipo o vanno riviste gli spazi interni per renderlo versatile e adeguabile a più esigenze. Vi assicuro che le variabili sono moltissime e vanno valutate dando ordine di priorità e funzionalità. Abbiamo visto in sintesi quali sono le attività relative all'oggetto misterioso che è l'immobile. Proviamo ad ipotizzare un caso. Ha un immobile da vendere oppure un immobile dove ci vive ma vorrebbe renderlo più bello, oppure ha delle esigenze familiari per le quali o si trasferisce o trova all'interno degli spazi la possibilità di recuperare un piccolo studio o altro ancora. Contatta tramite mail o media i suoi professionisti, al quale fa avere una serie di fotografie, le planimetrie e una rappresentazione del contesto in cui si trova l'immobile. L'architetto valuterà in base ai criteri ben definiti la possibilità di renderlo più appetibile attraverso presentazioni e immagini migliori anche con dei renderi o realtà virtuale, oppure proponendo scelte mirate anche con interventi minimi per farlo diventare un nido. Dopo aver fatto una valutazione del prezzo, renderà a Giorgio i vari step per renderlo più vendibile o più attraente o più funzionale in base alle necessità familiari di Giorgio. Dopo averlo reso migliore, se Giorgio lo vorrà vendere, avrà valorizzato questo bene e quindi sarà più aspettibile. Se necessario media potrà suggerire il mediatore che aiuterà velocemente Giorgio alla vendita con pochi accorgimenti utili. Se può essere utile o media avrà già trattato con alcuni istituti di credito, fatta salva chiaramente l'assolvibilità del cliente, di condizioni di miglior favore, piuttosto che avere un ventaglio di imprese e di artigiani con i quali avere garanzie di eventuali migliorie. Se Giorgio invece fosse l'acquirente probabilmente si troverà un nido già restaurato, rinfrescato, aggraziato da o media. Quindi oltre a sentirsi più tutelato si ritroverà un alloggio adatto alle sue esigenze. Ipotizziamo che Giorgio fosse un'agenzia immobiliare e potrebbe chiedere il supporto di o media per aiutarlo a valorizzare un immobile, sempre che questo abbia le caratteristiche di base che si dicevano all'inizio. In attesa di avere risconto da quanti potranno essere interessati dei servizi di o media, noi stiamo lanciando questo progetto fresco, innovativo e utile a molti. Ci faremo vivi sui social, sui media per meglio informare più persone possibili di questa grande possibilità. Il nostro è un progetto ambizioso che entra in un mondo a me personalmente abbastanza sconosciuto, ma che credo abbia tutte le condizioni ideali per poter essere di successo. Di successo perché ogni volta che si crea valore una cosa, questa chiaramente diventa un fatto importante e di passaparola. Sicuramente troverete o media sul mio sito genovainvestimenti.it, lo troverete tramite i tempi cambiano comunità senza l'accento sulle a.gmail.com e sulla nuova email che stiamo sviluppando che si chiamerà o media ho.me.dia.ginv.com, che sarà praticamente la mail di riferimento per quelli che vogliono avere informazioni aggiuntive. In una prossima puntata, insieme ai miei colleghi, vi presenteremo il progetto ancora più nel dettaglio per far meglio comprendere la voglia nostra di fare del Dio Media un grande network immobiliare. A presto, grazie dell'attenzione e alla prossima.